La disabilità e l'arte, due mondi che sembrerebbero distanti e che invece hanno una costante e stretta relazione. Lo dimostrano i grandi del passato e lo conferma la mostra Creatività più genialità uguale arte, presentata dal Centro Studi Cultura e Società di Torino, con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, inaugurata alla Biblioteca della Regione, nell'ambito degli appuntamenti del Salone OFF, rassegna collaterale del Salone Internazionale del Libro. In esposizione quadri, ceramiche, bracciali, orecchini, fino alle opere che ridanno vite a materiali di scarto, a legno, pietre, ramiere e aiuta, messi insieme sapientemente, da persone che hanno vissuto situazioni personali di grave difficoltà. La mostra nasce all'interno di un percorso promosso dal Centro Studi Cultura e Società, le diverse età, che tende a valorizzare le grandi capacità artistiche, creative, anche di competenze scientifiche che troviamo in alcuni libri che sono in esposizione, realizzate da persone con disabilità. Guardando opere e oggetti in esposizione, si ha la percezione e la conferma che l'arte è strumento di espressione e unione, uno spazio dove non esistono confini, dove la disabilità è parte di un tutto, anche in una società che non ha ancora saputo abbattere tutte le barriere. Qua in mostra vediamo una ventina di opere, 22-23 opere, create da questi ragazzi della comunità montana pinerolese, allo scopo di far vedere ciò che hanno imparato a fare, ciò che riescono a fare. Quindi preparazione nell'utilizzo dei colori, della scultura, le malte, eccetera. Riescono a gestire l'insieme dei colori e tutto, praticamente, a fare dei giovani artisti nell'ambito di ciò che la loro motorietà permette. La mostra è divisa in quattro sezioni. Il valore della persona nell'officina della vita, creare emozioni con i colori, con tele e sculture di chi frequenta l'associazione Gualtiero Rinaldo Onlus, la luminosità della bellezza dei laboratori di Astia Evrea, dell'associazione Pro Retinopatici e i povedenti Apri Onlus e la metafora dell'arte, del laboratorio artistico materiali di scarto. Io ho enfatizzato il valore sociale, ma in dubbio che tutte queste opere che vediamo, sia quelle in vetrina che quelle rappresentate nelle fotografie esposte, hanno un grande valore artistico, realizzato da laboratori specializzati, da artisti anche di fama internazionale, che hanno dato il loro contributo. Il messaggio è un po' il sottotitolo della mostra, quando la disabilità si fa università di creatività. Creatività più genialità uguale arte. Alla Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte, Via Confienza 14 a Torino, resterà aperta fino al 14 giugno. Orari da lunedì a giovedì 9.12.30 a 14.16. Il venerdì 9.12.30.